Secondo i dati diffusi dal governo, almeno 3 milioni e 700 mila lavoratori del settore privato non sono ancora vaccinati, con il rischio di mancare all'appello della fatidica data del 15 ottobre, quando per entrare in servizio bisognerà avere per forza il Green Pass. Se il decreto Draghi non dovesse assolvere il compito di dare la spinta decisiva alla campagna vaccinale, come sperato, tante aziende potrebbero trovarsi nella condizione di dover bloccare l'attività. I non protetti sono ancora il 25% della platea dei lavoratori. La CGA di Mestre ha calcolato questo numero per il Veneto. In Veneto abbiamo 400 mila dipendenti privati non ancora vaccinati e molti tecnici e altrettanti operai specializzati che rischiano di non esserlo nemmeno entro il prossimo 15 ottobre. Sono operai e tecnici specializzate le figure professionali più introvabili. Se, come indica il decreto nelle aziende con meno di 15 dipendenti possono essere sostituiti, il rischio è che nessuno riesca a colmare quel vuoto e che la produzione subisca un brusco stop, così come negli uffici pubblici che si vada incontro a rallentamenti e disservizi. Ci aspettiamo semmai qualche problema a livello, diciamo così, di aziende che devono ad esempio garantire servizi essenziali per i quali sono già in corso delle interlocuzioni per capire come fronteggiare eventuali assenze di personale in posti importanti già il 15 ottobre. Io spero però e colgo l'occasione anche di questa intervista per fare un ulteriore appello a coloro che ancora sono nell'incertezza, a coloro che magari così, più per convinzioni proprie, magari si lasciano trascinare un po' in questo percorso da chi millanta di di saperne più delle autorità sanitarie. Le imprese più a rischio secondo la CGA sono quelle del settore metalmeccanico dell'edilizia del tessile della calzatura. Per Alberto Irone della Filcams CGL di Treviso a rischio anche il settore della grande distribuzione dove molte catene, seguendo l'esempio di Natura Si, si stanno organizzando per finanziare tamponi periodici ai loro dipendenti purché rimangano in servizio. Se le aziende decidono di pagare i tamponi e lo faranno perché ci sono valutazioni in questo senso in corso tra tante aziende che occupano migliaia di dipendenti in Italia, dall'altra crediamo che ci debba essere la giusta attenzione anche economica per i lavoratori che invece hanno deciso di vaccinarsi.